Ora è saltata al 12, come che sei la ristorazione adesso? Ah basta, sei finito gli anni, non sei più come una volta. Intanto non che sei più i veneziani, va bene? Sa che betto è dei veneziani che veniva qua a mangiare in compagnia e stava qua tutta la sera e non per i coglioni andava più via. Come scusi? No, dico i veneziani adesso, dove sei andato? Spariti? Basta. In giro non che sei altro che i turisti, ma tanti però. Insomma. Ma ne vuole ancora di più, è un'invasione. Ecco appunto che par giusto. Oh, venere sabato e domenica lavoriamo una volta, tre giorni. Adesso verti qua sempre tutto il giorno, perché stai qua e mangia tutte le ore. Oh, questa è gente che cena ai 4 del pomeriggio. Gente che si tolga il cappuccino con la pizza ai 9 di sera. E che par che sia vita questa? Sì, va bene, eravamo 19 dipendenti. Sì, va bene, se mi devo pensare di fare anche il coesione mattina, perché che sarebbe richiesta se anche a peccano sfruttarla. Sì, va bene, se mi dovete comprare anche il ristorante qua di fronte, perché sarebbe un'occasione. Ma al final uno pensa, ma per cosa è che faccio tutto questo? Poi è gloria. Conto ai 4! Pronti! Cosa? Do frittura ai 270 euro. Mi voglio aver sbagliato qua. Ah no, ma io ho tolto un caldoce, dai. Allora qua, pronti il conto! Oh, speriamo che ti faccia un infarto!